Benvenuti a questo video del G io sono un gioiato e oggi siamo qui per trovare oggi parleremo di Milan parleremo di Milan-Rome io sono andata a vederlo allo stadio stavolta non mi arrabbia perché si è visto un grande Milan un Milan che ci ha messo una grinta assurda in mezzo al campo ci ha messo veramente una grinta incredibile poi alla fine non è andata però ho visto un grande Milan questa volta quindi sono contento Poi la Roma è nettamente più forte, non nettamente, però è più forte, perché la differenza è che da una parte c'è Kalinic e dall'altra c'è Zeco. Ci ha avuto culo un casino la Roma sul tiro di Zeco che finiva in curva, deviato da Romagnoli e la palla nel 7, un culo incredibile, che più culo non si può. Quindi niente che dire, abbiamo giocato con tanta grinta, Andre Silva si è, hanno fatto vedere, dicevano che Andre Silva non era pronto per la Serie A, invece è prontissimo. Io lo farei giocare titolare ogni partita. Ceolanooglu è spulso, un'espulsione che non ha veramente avuto senso, perché la Roma stava 2-0, la Roma stava partendo in contropiede, ora giochiamo senza Ceolanooglu, anche se c'è Buonaventura, cioè non cambia molto, senza Ceolanooglu contro l'Inter, però abbiamo Buonaventura alla fine. Buonaventura e Suso in panchina, ha provato a giocare con le due punte, diciamo che è andata abbastanza bene, solo che non puoi tenere due giocatori come del valore di Suso e di Buonaventura in panchina. Cioè dai, niente, a me la squadra mi è piaciuta, peccato che abbiamo perso appunto, su un tiro respinto, così così abbiamo perso però. Quindi, niente, allora, ora parliamo del mercato del Milan. Allora, il mercato del Milan, allora, il Milan appena rinnovato con Suso ha messo una clausola di mi sembra 40 o 50 milioni che fa gol al Real Madrid. Il Real Madrid cerca un esterno e non so cosa gli serva, sinceramente, avendo Isco, Asensio, CR7 e Bale. Giocando un esterno per migliorare il suo reparto di esterni, praticamente, non so perché, non me lo chiede a me, non so perché stai a Sia. Giocando un esterno lo fa gol al Real Madrid. Prima volta che lo leggo, vabbè, non ci credo per niente perché il Real Madrid non sa di fare niente. Poi leggo più notizie in quanto il Real Madrid vorrebbe Suso e un po' mi spaventano. Poi il Milan, come sta spavento ancora di più, il fatto che sta cercando anche il Milan un esterno. Sta a messo gli occhi su David Silva, ma non te lo daranno mai perché è un perno del Manchester City, non te lo daranno mai che David Silva. Però stanno mettendo gli occhi sul possibile gran colpo Aubamey, no scusate, non è vero, Sanchez, Alexi Sanchez se ne vuole andare dall'Arsenale in uscita. Sta giocando una squadra da quest'estate, quest'estate nessuno è riuscito, è stato in grado di comprarlo. Invece stavolta vuole andarsene, fa gol al Milan a quanto pare. Ho letto un po' di notizie, anche una notizia da Mediaset Premium che è da OneFootball che dovrebbero dire. notizie reali, ad esempio, dissero la notizia di Bonucci, noi non ci credevamo, ma invece è stata vera. Bonucci, cioè, è pronto il Milan, dicono che è pronto a fare già un'offerta di 85 milioni, cifra che vuole l'Arsenal. Penso che non c'è nemmeno un minimo per cento di possibilità che Sanchez venga trasferito al Milan, sia perché appunto Alexi Sanchez non vuole venire in un club così che non fa nemmeno la Champions, fa l'Europa League, un club comunque di adesso meno famoso, diciamo, e nel Milan, non vorrebbe venire mai Sanchez, parliamoci chiaro. E quindi cerco un esterno, però penso che non ci siano possibilità che venga appunto questo Alexi Sanchez. Poi, come altra cosa, allora, ha perso il Milan e tutti stanno chiedendo Ancelotti. Allora, il Milan non deve mai prendere Ancelotti. Ho dei motivi, Montella è un allenatore che conosci i suoi giocatori, li conosci da due anni, tu lo stai tenendo, gli stai dando fiducia. Lui non te la sta, diciamo, più o meno ripagando, non te la sta ripagando perché ha perso tre partite. Però, alla fine, se tu fai venire Ancelotti, una minestra riscaldata che praticamente ti viene a fare un anno al Milan, non avrebbe, secondo me, senso perché Montella ha fatto tutti i suoi acquisti, chi ha chiesto, li hanno acquistato. E quindi, secondo me, sarebbe una grande cacchiata vendere Montella. Stavo dicendo, Montella non è da dare via, Fassone e Mirabelli, per fortuna, hanno detto che non lo daranno, quindi per noi va molto bene, daranno Figgius e Montella. Quindi, niente, raga, questo video finisce qui, spero che vi sia piaciuto. Se è così, mettete un like, fatevi soli, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!